Parco della Pace disseminato di relitti bellici della Seconda Guerra Mondiale. Continuano senza sosti i rinvenimenti di nuovi ordigni. Solo da metà agosto ad oggi, fine settembre, sono state oltre 30 le bombe ritrovate, tutte tra 40 e 50 cm di lunghezza e 10 cm di diametro. Ritrovamenti fatti dalla ditta che è al lavoro nel cantiere del nuovo atteso Parco Cittadino e che polizie e carabinieri hanno preso in consegna per poi far brillare. Nella sola giornata di lunedì scorso 21 settembre sono stati 20 gli ordigni ritrovati. Che ci fossero state le bombe si sapeva, la città era stata vittima dei bombardamenti e proprio per questo, prima di progettare il parco, si sono spesi fiorfior di euro per la bonifica dell'area di ben 600.000 m2. Fino al 2017 sono stati spesi 1.700.000 euro e era stato accertato che la bonifica fosse collaudata e definitiva sul Parco della Pace. Questo non è avvenuto, abbiamo rinvenuto decine di bombe in un territorio già bonificato. Le sorprese non sono mancate, l'amministrazione ha aggiunto ulteriori soldi alla bonifica mentre il cantiere ha continuato i suoi lavori fermati solo dal Covid. Ed ora però questi nuovi e continui ritrovamenti pongono l'inevitabile quesito sull'efficacia della bonifica e l'amministrazione vuole fare chiarezza. Abbiamo dovuto aggiungere 400.000 euro nel bilancio dell'opera pubblica del Parco della Pace e quindi incontreremo a breve anche il genio militare che si è occupato della bonifica per capire e essere ragguagliati sulle motivazioni.